È il momento dell'anno in cui l'influenza stagionale miete il maggior numero di vittime. Tra fine gennaio e i primi di febbraio, infatti, si registra il cosiddetto picco influenzale, quelle settimane in cui è maggiore il numero di chi contrae il virus. Le famiglie sono quelle più colpite dall'influenza e da sindromi para-influenzali. Gli studi medici sono affollati da bambini e genitori. InfluNet, il sistema di sorveglianza ministeriale dell'influenza, da ottobre 2018, ha segnalato 125 casi gravi di influenza e un totale di 23 decessi per complicanze dovute al virus. Anche l'ultimo bollettino settimanale segnala un brusco aumento della sindrome influenzale. Dal 14 al 20 gennaio, l'ultima settimana di cui sono disponibili i dati raccolti sul territorio, sono stati stimati circa 570.000 casi, contro i 430.000 della settimana precedente. L'abbassamento repentino delle temperature della seconda metà di gennaio rappresenta un ulteriore fattore di diffusione dell'influenza. Per limitare la trasmissione in famiglia dei malanni rimangono valide le raccomandazioni relative alla protezione dagli sbalzi termici, all'igiene delle mani, al cambio e lavaggio di abiti e lenzuola delle persone che sono influenzate.